Tutti dalla Tg regionale per sordi, ancora 90 nuovi casi di coronavirus in Toscana, età media 38 anni, il 71% asintomatico, il 43% collegato a un precedente caso nelle ultime 24 ore, ma anche nessun decesso e ci sono 29 guarigioni. Questo è il report giornaliero della Toscana, regione dove salgono a 13.304 i casi di positività. I guariti raggiungono quota totale di 9.565. I decessi sono invariati, quindi a quota 1.151. Li attualmente positivi sono oggi 2.588, di cui 108 ricoverati e 2.480 in isolamento a casa con sintomi lievi oppure senza sintomi. E scatta per tutti un obbligo di indossare la mascherina sanitaria Pescia, siamo in provincia di Pistoia, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11 alle 13.30, orari considerati sensibili. Questo nelle strade interessate dal trasporto pubblico locale legato alle scuole e al trasferimento degli studenti. A deciderlo il sindaco, Oreste Giurlani, che sostenendo la necessità di tutelare la salute pubblica, ha firmato un'ordinanza che nasce dall'osservazione dei primi due giorni di apertura delle scuole. Questa ordinanza in pratica obbliga tutti gli studenti, ma anche chi dovesse transitare in quelle strade vicine alle scuole, a indossare la mascherina in determinate fasce orarie e in corrispondenza dei luoghi dove si sviluppa e si smista il trasporto pubblico locale degli studenti e il raggiungimento degli istituti scolastici. Per effetto di questo provvedimento, che prevede sanzioni da 400 a 1000 euro per chi non osserverà le prescrizioni indicate, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11 alle 13.30 per gli studenti e in generale per chiunque transiti in determinate strade cittadini. C'è quindi l'obbligo di indossare la mascherina. Oltre 220 truffati in varie regioni d'Italia nella truffa del pellet, proposto a basso costo, che pur regolarmente pagato dai clienti invece non veniva mai consegnato. Emerge da un'inchiesta della Procura di Prato e della Guardia di Finanza alla conclusione delle indagini preliminari. Ad essere truffati ignari residenti della Toscana e regioni limitrofe che avevano aderito alle proposte commerciali pubblicizzate su diverse testate giornalistiche locali e sui social network per la fornitura di pellet a prezzi concorrenziali, con tanto di consegna a domicilio gratuita. I finanziari di Prato hanno ricostruito l'attività illecita di una società con sede in Calabria e unità locale a Prato con amministratori madre e figlio originari del Cosentino. Un marocchino di 36 anni è stato arrestato dalla polizia a Viareggio per lesioni personali aggravate ai danni di una donna algerina cinquantenne. L'aggressione è avvenuta ieri verso le 19 e un quarto vicino al municipio. Quando è arrivata una volante l'uomo si è introdotto in un bar ma è stato fermato e condotto in commissariato per accertamenti. La vittima è stata ferita al volto con un oggetto tagliente che non è stato trovato. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versilia per il ferimento. Ha avuto una proniosi di 10 giorni. Lei stessa ha riconosciuto il suo aggressore che è stato arrestato per lesioni aggravate anche in base all'articolo 583 introdotto nel 2019 che ha previsto una pena da 8 a 14 anni per il reato di deformazione dell'aspetto della persona a causa di lesioni permanenti al viso. Carabinieri di Lucca in collaborazione con i colleghi di Pisa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 uomini, tutti tunisini, accusati di spaccio di eroina e cocaina tra le province di Pisa e Lucca. Un sesto destinatario dell'ordinanza è irreperibile e per questo è ricercato. L'indagine è partita nel novembre 2018 durante un controllo in un'area boschiva di Lucca e allora fu sorpreso un extra comunitario che per fuggire abbandonò oltre a eroina anche un cellulare. Poi analizzando il telefono è stato possibile ricostruire l'organigramma del gruppo dedito allo spaccio e il loro giro d'affari. Iniziato nel novembre scorso e ripreso dopo l'interruzione causa Covid il restauro della pietà di Michelangelo custodita nel Museo dell'Opera dell'Uomo di Firenze conosciuta anche come Pietà Bandini, una delle tre eseguite dal Buonarroti non finita dal grande artista che ci si vuole ritrarre nei panni di Nicodemo ma che tentò anche di distruggere. Per la prima volta sarà possibile accedere al cantiere di restauro grazie a speciali visite guidate, massimo 5 persone alla volta con i restauratori e gli esperti dell'Opera di Santa Maria del Fiore. E intanto la prima pulitura della superficie sta riportando alla luce le cromie frutto di precedenti trattamenti del marmo. Parliamo di calcio, Fiorentina Borja Valero è tornata a casa con questo messaggio la Fiorentina ha ufficializzato il ritorno del centrocampista spagnolo che ha già vestito la maglia viola dal 2012 al 2017 prima di trasferirsi per tre stagioni all'Inter da cui si è svincolato a parametro zero. indosserà la maglia numero 6 ed è stato accolto da un lungo striscione affisso sui cancelli dello stadio. Già ufficializzati anche i numeri di maglia degli altri giocatori della Rosa della Fiorentina 2020-2021 il 10 come previsto andrà a Castrovilli mentre Ribery si tiene stretto il 7 Federico Chiesa il 25 e Vlahovic ha scelto la maglia numero 9 Si apre nel ricordo di Giorgiana Corsini a poco più di un mese dalla sua scomparsa la ventisesima edizione di Artigianato e Palazzo che porta a Giardino Corsini di Firenze una nuova selezione di maestri artigiani dal 17 al 20 settembre 70 artigiani interagiranno con i visitatori mentre sono a lavoro nei loro piccoli angoli di bottega ricostruiti per l'occasione nelle limonaie e tra i parterre del Giardino all'Italiana Addio a Finofini il calcio italiano perde una figura storica medico della Nazionale dal 62 fino al Mondiale vinto nell'82 direttore del centro tecnico di Coverciano e ideatore del museo al centro tecnico federale è scomparso all'età di 92 anni il presidente della FIGC Gravina parla di un giorno davvero triste per il calcio italiano e ora le previsioni meteo per domani in Toscana sereno poco nuvoloso durante la mattina nuvoloso nel pomeriggio i venti sono deboli i mari poco mossi e per quanto riguarda le temperature stazionarie o in locale lieve diminuzione per questa sera è tutto grazie per averci seguiti arrivederci grazie a tutti